Grazie a tutti Come potete immaginare ho cambiato tantissimi musicisti nella mia carriera Anche se nella band c'è in questo caso Alex Cambisi Che mi affianco ormai da più di una decina d'anni E quindi è un po' la memoria storica Ma a parte Alex ho il Macca che è arrivato Riccardo Macca Bruni Che è un straordinario pianista, fisarmonicista che è arrivato e che avete imparato a conoscere Se so Oscar Palma, batterista, martellatore della Val Passiria Fabrizio Garletto che è un bassista meraviglioso Che vive sopra le colline di Cuneo Ed è un grande musicista di folk Prima di tutto un conoscitore quasi enciclopedico della musica folkloristica E i nuovi acquisti che in questo caso è da poco E si sono uniti a noi innanzitutto per questo speciale evento che faremo a Like a Tazza Milano Che sono un ragazzino che si chiama Efrem Bonfiglio Che vorrei presentare alla mia sinistra È un ragazzo di poco più di 20 anni È un grande manico di gitarra Molto dolce, molto dentro la band L'ultimo acquisto, molto meno dolce Molto meno leggero Vorrei che viene con noi Durante la serata c'era anche qualche guest Che voi in parte conoscete Che salirà sul palco Che si unirà magari per una canzone Che altro dire Stiamo lavorando bene Per preparare il massimo che ci è possibile Io sono molto felice del lavoro che stiamo facendo Spero che questa felicità E tutto questo amore che è dentro di noi Come è spesso accaduto Riesca ad attraversare il palco E ad arrivare da voi E che ci ha fatto tornare indietro Ciao Ciao